Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a coloro che stanno seguendo questo, che sono collegati a questo webinar. Terzo appuntamento della Research Communication Week. Sono qui con due colleghe delle biblioteche di Ca' Foscari, Romina Giolo, che lavora presso la biblioteca di area umanistica, in particolare nel servizio di supporto alla ricerca, e con Linda Spilacè, che lavora presso la biblioteca digitale e si occupa di valorizzazione delle conoscenze. Buon pomeriggio. Con loro ci confronteremo su un tema attualissimo, molto discusso, che è la scienza aperta. Io sono Daniela Grandin e nel cortico di questo incontro, che sarà una sorta di dialogo, non solo fra di noi, spero anche con coloro che stanno seguendo il webinar, ci focalizzeremo sulle opportunità, sui pregiudizi, anche sui falsi miti legati a questo argomento. Parlare di scienza aperta sappiamo è un tema attuale, ma anche molto complesso, ed è per questo motivo che abbiamo pensato di rappresentarlo con questa immagine, un alveare dove ogni cella rappresenta uno degli aspetti della scienza aperta. Quindi Open Data, la pubblicazione ad accesso aperta, Open Peer Review, l'Open Research, ma tante strade che dovrebbero portare all'apertura della pubblicazione, non solo, ma anche del processo di ricerca, per favorire la libera diffusione, non solo all'interno della comunità accademica, ma anche di tutta la comunità, perché la scienza è un bene comune, appartiene a tutti, e l'Open Science non è caso, è una delle raccomandazioni dell'UNESCO sulla scienza aperta, lasciate nel 2021, che ha lo scopo proprio di rendere la scienza più accessibile ed equa. Quindi, Linda, Open Science, why not? Allora, la scelta di questo titolo dipende un po' da, abbiamo pensato che questa espressione dubbiosa, concessiva, rispetto a un'offerta alitante, di solito il cameriere a fine di un buon pranzo, ci chiede caffè, dolce, e se ne valutano gli aspetti di soddisfazione, ma anche le ricadute negative, troppi zuccheri, troppa caffeina. Di fronte alla scienza aperta, che dovrebbe essere, come scriveva John Tennant, l'unico modo di fare scienza, perché accelera l'innovazione, perché promuove l'inclusività, perché riduce i costi, evitando la duplicazione di esperimenti, per esempio, e perché condivisa e fortemente evoluta, anche nei contesti internazionali, come appena ricordato prima tra tutte l'UNESCO, ecco, tutti questi aspetti positivi della scienza aperta restano legati a una prospettiva generale, quasi teorica, di cui tutti ci diciamo a favore, ma da una prospettiva pratica, il singolo ricercatore, che deve rispondere anche a differenti impulsi quotidiani, non trova così alla mano principi, azioni e pratiche dell'open science, perché richiedono una differente organizzazione del lavoro rispetto alla tradizione, richiede la conoscenza di strumenti e piattaforme specifiche, la consapevolezza di aspetti non secondari che spaziano dal diritto alla privacy, al diritto ad autore, aspetti economici di sostenibilità, tutti argomenti che in questa nostra chiacchierata cercheremo di toccare, dando l'idea della complessità del quadro della scienza aperta. E quindi, da bibliotecari che vogliono supportare il modello di scienza aperta, dobbiamo fare in modo che gli studiosi, di fronte all'approccio dell'open science, imposto da un progetto finanziato o proposto da un collega, rispondano why not? Open science, why not? Quindi un bello auspicio, Linda. Poi, nella pratica di tutti i giorni, come sarà la risposta del ricercatore? Quindi, mi rivolgo a Romina, che incontra studiosi nella sua pratica quotidiana, la quotidianità del suo lavoro, quando e per quali motivi il ricercatore si rivolge a voi quando hanno bisogno di avere informazioni sulla scienza aperta, diciamo? Quella che è la mia esperienza di lavoro, i quesiti, le domande, ma anche le preoccupazioni dei nuovi ricercatori, divertono, riguardano due aspetti fondamentali, almeno quelli che ho registrato, che ho notato. Il primo è relativo al cosiddetto data management plan, quindi i ricercatori che possono beneficiare l'immigrant, che hanno superato appunto una selezione, che hanno un progetto finanziato dall'Unione Europea, sono preoccupati di come gestire i dati che andranno a supportare poi le loro pubblicazioni, le pubblicazioni finali. Quindi, come gestire questo processo dei dati, in questo documento che loro sono tenuti a redarle, a scrivere, a stendere, a sei mesi dall'inizio del progetto finanziato, quindi in una fase ancora, diciamo così, embrionata. Questo è un problema molto sentito, anche perché va a toccare, a impattare su aspetti anche appena chiamati là da Linda, aspetti di privacy, di dati sensibili, e quindi voglio dire, con il ricercatore di fonte anche tutta una serie di, magari, di quesiti nuovi, però semplicemente. Questo è l'aspetto, diciamo, della tabella genocale. Dove posso io, ricercatore, depositare i dati? Quali depositori? Depositori istituzionali, il mio istituto, il mio ateneo ce l'ha, non ce l'ha? O posso invece, non so, vertere su un altro tipo di di piattaforma, di punti disciplinari, quindi questo è un po' la sfida. Quali dati deve inserire? Perché sembra banale, però a volte il dubbio è proprio che cos'è un dato, che cos'è il dato della ricerca, che cosa vale la pena di depositare, che cos'è. Quindi questo, diciamo, è un po' una prima brata. La seconda invece è quella relativa alle pubblicazioni. Voi sapete, noi sappiamo che spesso, io parlo per la ricerca finanziata dell'ambito europeo, quindi, per esempio, l'esame in Europa, ma anche quella, diciamo, i progetti di ricerca nazionale impongono delle clausole di pubblicazione, dei risultati della ricerca, d'accesso aperto. Ecco, quindi il ricercatore dice, io, dove posso pubblicare? Per essere conforme, per allinearmi a quelli che mi viene richiesto dei bambini di finanziamento. Quindi non è, diciamo, un option, è anche un obbligo. Ecco che il problema che si pone è, quale sede editoriale scelgo? Ho in mente una serie di riviste, di titoli nei quali poter pubblicare, ma sono veramente, rispondono veramente a quelli che sono i requisiti dell'accesso aperto. Oppure, mi è capitato, alcuni ricercatori invece mi bloccano, no, io voglio pubblicare in quel tipo di, in quella rivista, perché quella nella mia disciplina viene considerata un top journal, un journal, un titolo di fascia A per le aree bibliometriche. Posso farlo? Non posso farlo? Si parla molto di riviste. La sede editoriale prescelta è sicuramente la rivista. Direi questo, in questa fase, in questo momento. Quindi, diciamo che, da come mi restituisci dalla tua pratica quotidiana, gli studiosi si rivolgono soprattutto perché indotti in qualche maniera. Sono degli obblighi, sono in un quadro normativo, devono farlo, quindi, devono fare, aprire le pubblicazioni, devono aprire i loro dati. Quindi, potremmo considerare, Lilla, anche un contesto che non favorisce la scienza aperta in questo momento, o non la favorisce così tanto? Sì, siamo in un momento di transizione, appunto, dove spesso il ricercatore è un po' schiacciato dalla tradizione che gli propone una serie di riviste e pratiche, appunto, con delle riviste di eccellenza che dipendono da delle metriche bibliometriche che appartengono, diciamolo pure, che è un po' al passato, perché era di un sistema basato sulla carta e sulle missive postali, dove, appunto, quindi, dove l'editore aveva un ruolo fondamentale proprio per questo suo essere il canale di comunicazione. Il mondo digitale ha cambiato tutto e il movimento dell'open access sta cercando di forzare la mano e quindi deve cercare di agire anche dal punto di vista della valutazione. L'esempio appena portato da Romina rispetto al ricercatore che agonia di pubblicare nella rivista d'eccellenza per la sua disciplina è sintomatico di questa situazione. La condivisione e la diffusione dei risultati di ricerca è un aspetto che va in subordine rispetto a quella che è la reputazione della rivista. Quindi, insomma, la valutazione è uno di quegli elementi che non favoriscono il... No, perché appunto il ricercatore è valutato in base a quantità e alla qualità della pubblicazione e quindi se riesce a pubblicare nelle riviste più quotate, riconosciute dai sistemi di valutazione nazionale, il ricercatore avrà in restituzione l'avanzamento di carriera spianato. E quindi, da questo punto di vista, l'attuale contesto accademico, per certi versi, con i progetti finanziati europei e nazionali che impongono l'open access, spingono il ricercatore ad aprirsi verso l'open access. Però, diciamo che il sistema editoriale non è ancora così accogliente. E' un bel termine. Diciamo che però ci sono anche forse dei segnali di cambiamento, anche le università che cercano di fare pressione per fare, attuare dei cambiamenti nella valutazione. Ricordiamo Coara, che è lanciata poi alla fine del 2022, che è la coalizione promossa dall'Unione Europea per superare una valutazione esclusivamente bibliometrica, a favore invece di una valutazione incentrata, di una ricerca incentrata sulle pratiche della scienza aperta. A Coara hanno aderito moltissime università, tra cui anche l'Università Caposcari di Venezia e anche la nostra agenzia nazionale di valutazione, l'Ambur, ma quindi fermo. E passiamo, diciamo, o affrontiamo in questo nostro percorso che vuole tracciare il perimetro di alcuni, di quelli che sono gli elementi che frenano il fare scienza aperta, il fare open access, no? Anche la qualità, no? C'è un pregiudizio sulle riviste, sulle pubblicazioni ad accesso aperto come pubblicazioni non di qualità, ma è ancora così, Linda, in effetti? Allora, diciamo che le riviste open access sono molto più giovani delle riviste commerciali di cui abbiamo accennato prima. Quindi mancano di tradizione molto spesso, devono costruirsi un nome e una reputazione. Ad oggi non è sensato parlare di mancanza di qualità nelle pubblicazioni open access. Dal momento che vengono applicati o gli stessi modelli di revisione tra pari, vigenti nelle riviste tradizionali, di solito una valutazione esterna e anonima dove l'unica figura a conoscere l'identità di autore e revisori è il redattore, o vengono addirittura sperimentati nuovi modelli di revisione tipici delle pubblicazioni ad accesso aperto. Si tratta del modello open peer review, in cui autore e revisori instala un dialogo e una discussione costruttiva. Tra tutta la letteratura sul tema, ci piace mostrare qui un estratto da un recente articolo di un team di ricerca spagnolo. Questo studio del 2023 ha analizzato oltre 17.000 pubblicazioni che avevano ricevuto delle segnalazioni di problematicità nella piattaforma pub peer. Questa piattaforma è nota per essere una delle community che più ha smascherato le frodi e le manipolazioni dei dati in articoli scientifici. I ricercatori di questo articolo, tra le tante osservazioni fatte grazie alla grande massa di dati raccolti, sottolineano come nelle riviste che usano metodologie di revisione pubblica tra pari, tipologia di revisione che è il modello dell'open access publishing, vi siano meno casi di manipolazione e frodi. Quindi, ritornando alla questione della qualità, dopo oltre vent'anni in movimento del processo aperto, vi sono ormai molte riviste open access che sono entrate nelle viste di eccellenza, di cui parlavamo sopra, e quindi ormai hanno una buona reputazione al pari di costosi periodici commerciali e a volte anche di più. E qui la questione della misura della qualità dipende spesso molto anche dall'ambito disciplinare. Spesso certi ambiti iper specializzati, soprattutto nelle discipline di tipo storico-umanistico, hanno come editori di riferimento case editrici non prettamente accademiche e quindi estranei ai meccanismi di valutazione e condivisione della ricerca. In questi ambiti viene in aiuto come un'opportunità di spinta a favore della transizione verso la scienza aperta il modello delle open university press. Come quella di Caposcari. Come le edizioni Caposcari. Diventa prezioso per un ricercatore avere a portata di mano delle riviste e delle collane referate in un ambiente dove il processo di verifica editoriale è dettagliatamente dichiarato, trasparente e gestito da comitati editoriali di altissima qualità e dove la priorità è la diffusione e la cultura della condivisione dei risultati di ricerca. Quindi un modello che si sta sempre più diffondendo, visto anche appunto la nascita di molto, lo sviluppo di molte university press legate alle università, però rimane sempre sul piatto di una resistenza, di un contesto che forse non facilita, forse rende più oneroso. Qui apro il tema dei costi, cioè fare open access ha dei costi e a volte dei costi notevoli. Romina, a questo proposito, conoscendo che sappiamo che è un tema molto delicato, ma cosa ci puoi dire? Sì, confermo rispetto anche ai punti toccati prima dall'Inda, che quello dei posti è un ulteriore tassello che significa un po' alle resistenze in fatto all'accesso aperto, nel senso che spesso pubblicare l'accesso aperto comporta dei costi che ritambano su chi pubblica, sull'autore. Che cosa vanno a coprire poi questi posti? Sono i posti relativi proprio ai costi di pubblicazione, quindi mantenere una piattaforma editoriale, pagare un team, un gruppo che contiene che lavora questa piattaforma, sono i posti limiti che gli editori, appunto, a chi fanno fronte. Tecnicamente si paga, diciamo, sia per pubblicare un articolo, si paga in questo senso dell'EPC, sia si può pubblicare un libro, quindi una monografia, un testo più lungo, cosa facile che accada nelle discipline umanistiche, e anche in questo senso può essere richiesto un pagamento, appunto, di un contributo, qualche linea FI, oppure addirittura a livello di siglo, capitolo presente, per esempio, all'interno di un cilano, all'interno appunto gli atti di convenio, gli scrivono più soggetti. Il discorso dei posti è molto variabile, dipende appunto da editore a editore, dipende all'interno di uno stesso editore anche da titolo a titolo, e spesso loro lo dichiarano, gli editori lo dichiarano nelle loro piattaforme, nei loro siti editoriali, quindi il ricercatore, da una ricerca, diciamo così, anche in maniera autonoma, può capire quanto a livello di postale pubblicare comunque in determinato editore. C'è da dire però una cosa, che una volta rilasciato il capitolo, il libro, l'articolo, l'accesso aperto, questo diventa l'accesso aperto per tutti. Per tutti significa non solo per i membri dell'istituzione, dell'università, che ha sostenuto quei costi, ma aperto veramente alla comunità, a tutta la comunità. E questo è un aspetto sicuramente molto positivo. Io che mi occupo anche di riviste, di abbonamenti e di riviste, vedo di anno in anno quanto del budget di una biblioteca se ne va in qualche modo per rinnovare i titoli che abbiamo in abbonamento. non abbiamo, per esempio, più di 500 titoli in abbonamento. Se non rinnovassimo questo abbonamento, i nostri utenti, la nostra comunità scientifica, non potrebbe accendere a tutti tutti. In questo caso il paradigma è veramente differente. Quindi, aperto, aperto per tutti. Questo è un dato sostenibile. Quindi, il tema del costo e della sostenibilità dei costi, consiglierevole, è un aspetto centrale rispetto anche alla diffusione di un accesso aperto. Qui parliamo di pubblicazioni, parliamo di pubblicazioni in prevalenza, quindi di riviste prevalentemente e anche di monografie. è chiaro che qui si apre il tema del sostegno all'accesso aperto. Posso citare il caso di Ca' Fosca, non so che molti altri atenei lo fanno, di definire un fondo finalizzato proprio a supportare anche quei ricercatori e quegli studiosi che non hanno fondi personali per le pubblicazioni o che non rientrano, per esempio, nelle pubblicazioni previste ad accesso aperto e previste dai contratti trasformativi. Tu prima mi parlavi appunto di quanto costa sostenere economicamente, mantenere l'abbonamento. In questo momento noi stiamo attraverso questi contratti trasformativi che dovrebbero accompagnare verso l'accesso aperto e quindi pagare solo per pubblicare, non solo per leggere. In realtà hanno dei costi sempre molto elevati perché paghiamo per leggere, ma paghiamo anche per pubblicare in quelle riviste di cui paghiamo anche l'abbonamento. Diciamo è un percorso? Si spera, è auspicabile, è un percorso necessario, si pensa ad altri modelli, si stanno studiando altri modelli, perché l'arrivo è quello di quello che vengono chiamate, diciamo, le riviste gold, che nascono ad accesso aperto, quindi io pago solo per pubblicare, cioè le spese di pubblicazioni, quelle che prima appunto ricordavate, la piattaforma, tutta la questione poi delle parti editoriali. quindi, insomma, è un tema di non facile di soluzione, ma c'è, ci sono movimenti, ci sono spinte verso una soluzione che diventi sempre più sostenibile, no? A questo proposito vorrei segnalare che l'Open Access Scholarly Publication Association ha condiviso solo una settimana fa un documento ufficiale di linea guida per l'equità nell'Open Access. Infatti, se l'accesso aperto è una realtà per ogni singolo lettore, così non è per il ricercatore che deve o vuole pubblicare, come avete appena spiegato, in particolare le differenze tra università ricche e in grado di poter pagare per pubblicare ad accesso aperto e le istituzioni meno abbienti, dove si può di sicuro accedere a molta più letteratura rispetto ad anni fa grazie all'accesso aperto, però non possono altrettanto compartecipare nel condividere la ricerca prodotta nelle loro istituzioni. E quindi il problema della sostenibilità ed equità dell'accesso aperto è non risolto, non ha facile soluzione. Infatti, per chi volesse leggere il documento, che è tra l'altro in uno stato di bozza fino al primo luglio, quindi aperto a revisioni, commenti da parte di tutte le persone coinvolte nella filiera, da editori, ai ricercatori, ai bibliotecari, sono 20 pagine focalizzate sulle buone pratiche utili ad abbattere le barriere economiche che impediscono la capillare diffusione del processo. Ha usato un termine chiave, che è quello dell'equità, che un po' si ricollega a quello che dicevamo all'inizio delle raccomandazioni UNESCO, di fare una scienza accessibile e equa. Questo è l'aspetto centrale. E sempre in questo nostro percorso, questa nostra strada che vuole un po' evidenziare e creare un perimetro intorno al quale definire questi sono gli aspetti che costituiscono ancora appunto dei pregiudizi nei confronti di fare scienza aperta, di riaprire le proprie pubblicazioni. C'è la questione del plagio e diritto d'autore. Spero che negli ultimi anni, o almeno mi parli vedere, che con le ultime generazioni di questa paura del plagio si è abbastanza soffita. Anche perché l'idea che il diritto d'autore sulle pubblicazioni ad accesso aperto non sia tutelato è in realtà una prospettiva distorta di considerare il proprio diritto. Infatti, a monte di una pubblicazione in accesso aperto è presente un contratto di pubblicazione che regola i diritti tra le parti. E a differenza che nel passato, quando il contratto era somministrato dalla casa editrice che deteneva i diritti commerciali sulla mia opera, nei contratti di accesso aperto l'autore è colui che davvero prende in mano la situazione. E grazie ad una serie di licenze, di solito la creative commons, può pretendere di inserire in questo contratto editoriale gli utilizzi consentiti o meno della propria opera e quindi prevedere che gli utilizzatori debbano correttamente citare l'autore quando riutilizzano l'opera, se la creative commons è scelta, è la licenza che permette l'utilizzo, che permette la condivisione o se permette semplicemente la diffusione. Quindi grazie al diffondersi abbastanza ormai capillare delle creative commons è diventato un po' più semplice ragionare anche da questo punto di vista. Diciamo, progressivamente stiamo anche superando questo aspetto. Allora, ricordo che naturalmente si possono fare delle domande in ogni momento, lo scrivete nella parte dedicata alle domande e comunque in ogni caso al termine ci saranno gli ultimi 10 minuti insomma dedicati proprio a un Q&A. Quindi abbiamo anche questo spazio dedicato. Quindi diciamo, abbiamo attraversato fino ad ora quelli che sono stati i nodi principali, diciamo, in un contesto che può contribuire a creare resistenza nei confronti della scienza aperta, delle pubblicazioni ad accesso aperto. Abbiamo parlato soprattutto di pubblicazioni. Però in realtà per fare scienza aperta ci vogliono anche degli strumenti, ci vogliono un contesto appunto, e anche delle infrastrutture che consentono di praticare la scienza aperta, di praticare l'accesso aperto. Romina, ad esempio, che cosa ha Caffoscari, che cosa abbiamo rispetto alle pubblicazioni da questo punto di vista? Allora, abbiamo il PACA, il reposito istituzionale appunto, il cosiddetto archivio della ricerca di Caffoscari, che l'Ateneo mette a disposizione della propria comunità scientifica proprio perché il deposito, parliamo sempre appunto di pubblicazioni, è una delle vie, anche dei metodi pratici con i quali vuoi poter fare accesso aperto, no? Quindi coloro che sono affiliati di Caffoscari depositano, assieme a una sorta di carta di identità della pubblicazione, anche la coppia di cifre del documento che hanno appunto prodotto. Questo repository per Caffoscari esiste dal 2014, quindi, diciamo, c'è un po' di storia all'espatto. E nonostante questo io mi ricolleggo un po' a una delle domande da cui sono partita, che diceva una nostra semistra, a quale appunto diceva, io devo popolare il mio profitto. Devo. Devo. Infatti ero sottolineato questo aspetto perché, a proposito di visioni indotti, c'è sempre questo senso dell'adempimento. Il trovo a dover fare questa cosa chiede un supporto. Allora, è tipico soprattutto dei ricercatori delle prime fasi della loro carriera. di non conoscere questo strumento, di non capire neanche bene perché bisogna poi depositare lì, visto che magari ci sono anche i social, tipo Academy.edu, ResearchGate. non a caso questa, io sono tempo a vedermi questo profilo e la ricercatrice aveva popolato il profilo su hdm.edu, ma il corrispettivo profilo delle pubblicazioni in arca non comprendeva al momento nessun documento. Quindi articolo, capitoli. E questo secondo me ne diceva anche in chiave di consapevolezza. è proprio, diciamo, un tema molto diffuso, assolutamente. Allora, anche qui possiamo lavorare anche sulla sensibilizzazione. Ma di là del fatto dei ricercatori che sono vincolati, ripeto, dal proprio programma di ricerca a depositare l'accesso aperto, anche tra coloro che non lo sono, si può lavorare in questo senso. Facendo, sottolineando l'aspetto che si tratta anche proprio di un'opportunità. un'opportunità di far conoscere la propria produzione, di esporre lo più possibile, perché noi sappiamo che gli item, gli titoli poi vengono appunto esposti anche nei motori di ricerca, quindi ricercabili in maniera molto intuitiva, molto veloce, molto così. Questo ovviamente ha un impatto anche dal punto di vista citazionale, quindi tutti avevano letti i titoli, che hanno la possibilità di essere nominati, citati, anche confutati, perché no. Però tutto va in termini appunto di visibilità, di disseminazione. C'è la necessità quindi di un alfabetizzazione, poi rispetto a certe tematiche che noi potremmo dare anche riscontrate che vengano conosciute o che siano conosciute. assolutamente, e dirò di più, diciamo che il deposito inizia proprio dal primo prodotto della ricerca che, se vogliamo, è la tesi di dottorato. Al momento le tesi di dottorato per noi a Caffoscari sono depositate in un altro archivo, in un altro deposito, ma a breve confluiranno appunto all'interno di Alca e quindi saranno visibili anche da noi. Quindi in questo senso si può anche, diciamo così, lavorare su questi aspetti, anche perché appunto lo stesso deposito e lo stesso archivio istituzionale conferma Open Air e quindi diciamo attraverso Open Air espone i dati anche a Dottorato. E noi vediamo proprio anche quanto hanno risposto poi i dottorati quando abbiamo organizzato, abbiamo lavorato questo piano di formazione sulla scienza aperta, quanto hanno risposto alla presenza all'interno di seguire questo percorso che li metteva a conoscenza di certi aspetti che non avevano, quindi un importante tassello rispetto a quello che è appunto la sensibilizzazione, come dicevi tu, rispetto a queste tematiche, no? Se posso individuare in postilla, diciamo così, magari ricordo per i ricercatori che ci scontano, è sempre comunque l'autore che stabilisce che cosa pubblicare l'accesso aperto o meno, può anche dedicare, diciamo, embargare, quindi stabilire che la coppia di città non è legata, per un certo periodo possa essere chiusa la consultazione e attivare un secondo tempo. Quindi, in questo senso, l'autore è un soggetto attivo e il diritto da riposta è in capo e l'autore, no? Quindi, in questo senso, offre anche delle garanzie, anche delle garanzie di conservazione del documento della coppia digitale, che sono appunto i depositori che garantiscono, a differenza di ResearchGate, per esempio, o di Accademia, una conservazione della coppia digitale a medio ambiente. La strada dobbiamo farne, in qualche maniera ne abbiamo fatta, ma dobbiamo, visto che su 82 mila prodotti il 25% sono ad accesso aperto. Beh, sarebbe da fare anche un benchmarking con altre università, però ci dà questa garanzia di collegarti, diceva prima, accennava un po', Romina, anche all'ampiamento, no? Si amplifica all'interno di un reposito istituzionale, la diffusione, la disseminazione, no? Un esempio era Utopia Alliance, vuol dire qualcosa, Romina, questo, Linda, questo proposito? No, appunto, grazie al nostro repositori ARCA, già implementato fin dal 2014, siamo entrati agevolmente all'interno di uno dei tanti obiettivi di Utopia, che è stato quello di creare, appunto, questo portale aggregato di tutte le università confederate, e quindi in questo unico portale concluiscono anche tutte le pubblicazioni di ARCA, quindi poi troviamo Ca' Foscari insieme a Solgit, Bruxelles, poi c'era Ljubljana, le università portoghese, le università portoghese, esatto, quindi diciamo che è questa nuova associazione di università che è nata da poco e qui ha aderito, anche è stata uno dei fondatori di questa, poi sono unite altri. E quindi l'importanza di entrare in un'infrastruttura che abbia degli standard, che risponda a degli standard, in questo caso ci poggevamo al standard adottato da Open Air, è indice di quanto poi le cose possono andare più veloci. Sì, esatto. Bene, e questo è l'infrastruttura per le pubblicazioni, no? Però il tema, diciamo, molto dibattuto, soprattutto in questo periodo e anche centrale, è quello dei dati, no? E dei dati e quindi delle dare delle infrastrutture anche per rendere accessibili non solo la fase finale, cioè la pubblicazione di una ricerca, ma anche il percorso, cioè i dati che vengono elaborati e creati nel corso della ricerca. A questo proposito, Linda, qual è lo stato del dato? Un po', almeno a ca' fosse rispetto a questa tematica. Beh, dobbiamo ricordare che l'accesso aperto, di accesso aperto alle pubblicazioni se ne parla fin dai primi anni del 2000, è del 2001 la dichiarazione di Budapest con la quale il movimento iniziava a porre le basi per un cambiamento sostanziale del modo di fare e comunicare la ricerca, affrontando il nodo delle pubblicazioni e il contesto dell'editoria accademica. Dopo vent'anni abbiamo visto in questa panoramica che i risultati sono stati raggiunti, ci sono delle riviste open access tra le liste di eccellenza, ma dal punto di vista dei dati il fermento è scatuito solo nel 2014, quando a Leida durante un workshop si è coniato l'acronimo FAIR per indicare come devono essere divulgati i dati della buona scienza, della scienza aperta. Quindi devono essere ricercabili, accessibili, interoperabili, riproducibili. Vediamo che i dati FAIR sono diffusi ovunque, sono citati in tutti i progetti europei, ma non solo anche in quelli nazionali, probabilmente anche nei progetti, nell'ultimo dei progetti di dipartimento si parla sempre di dati FAIR, ma è difficile anche qui passare dalla teoria alla pratica. Anche qui siamo di nuovo in una fase di transizione e siamo di evoluzione e abbiamo dieci anni in meno rispetto alle pubblicazioni. In questo momento si discute ancora su quale sia il modo migliore, la pratica migliore, lo strumento migliore e l'infrastruttura migliore per FAIRizzare i dati. Purtroppo comincia a entrare nel lessico questo termine proprio perché in una parola sola riusciamo a comprendere tutto quello che vogliamo fare con i dati. Ho detto infrastruttura, infatti per sviluppare appieno l'infrastruttura c'è però bisogno di un terreno, un terreno politico dove possa funzionare e avere senso questa infrastruttura. Ca' Foscari si è mossa e ha adattivo due polisi dedicate, una della scienza aperta dell'autunno 2023 e una più recente dedicata alla gestione dei dati della ricerca. Perché due polisi? Abbiamo fatto quella della scienza aperta che era tipo ottobre, novembre e poi anche proprio i polisi della gestione dei dati della ricerca, una cosa più specifica. Proprio per preparare il terreno al nuovo prodotto che Ca' Foscari andrà a implementare. Quindi abbiamo preparato insieme agli anni di supporto ai ricercatori, alla formazione continua del personale sui temi dell'accesso aperto, abbiamo preparato anche queste due polisi appunto e quindi sono queste due diciamo politiche, raccomandazioni e quindi c'è il consenso e il supporto ufficiale da parte dell'Ateneo dell'Ateneo a inaugurare finalmente il repository istituzionale dei dati. I dati della ricerca che sarà diciamo è già implementato come vedi ma non pubblico. Sì stiamo lavorando alla parametrizzazione ad alcuni aspetti proprio anche di carattere operativo rispetto al data repository. Naturalmente questo sempre insieme a dei gruppi di lavoro, presversali, insomma insieme ad altri colleghi del sistema bibliotecario di Ateneo. si presume che verrà lasciato a metà giugno, fine mese sicuramente, quindi sarà un momento molto importante, verrà pubblicato online. A questo proposito, anche per fare un po' tesoro di un precedente o di un percorso, prima parlavamo di bisogni indotti, cioè dall'alto la norma, la normativa, devo, tu avevi sottolineato che devo, devo fare questo, ecco. Perché gli studiosi non siano sempre costretti o non si trovino lo strumento del devo inserire, abbiamo cercato di coinvolgere, ingaggiare gli studiosi fin dall'inizio creando un focus group di studiosi di diversi aree disciplinari che sappiamo hanno produzione di dati completamente diverse, l'area umanistica, l'area scientifica, perché possano collaborare insieme con la parte diciamo bibliotecronica a implementare un repository che venga uno strumento che venga effettivamente utilizzato, non solo perché devo, perché ho, ma perché ha un valore anche che lega, lega al concetto e all'etica della scienza aperta. Quindi, poi vi sapremo dire come va, magari in un prossimo incontro, noi speriamo assolutamente bene. Quindi, si chiude un cerchio, in realtà si apre un'altra strada, no? È così, è una continua progressione, è una continua evoluzione. Se nelle pubblicazioni abbiamo una strada abbastanza consolidata, come ricordavamo prima, no? Da anni, vent'anni di esperienza e più, sui dati si apre un percorso che dovrà evolvere e avere via via degli aggiustamenti. Io in questo momento lascerei un po', vedrei se ci sono delle domande, che io vediamo se vedo da qua. Qualora il ricercatore decida di pubblicare su riviste in abbonamento, esempio, top journal esteri, come assicurarsi il mantenimento dei diritti d'autore per poter provvedere al deposito in trasti del repository istituzionale, esempio ARCA, e dare accesso immediato alla pubblicazione scientifica con la Green Road? Allora, quando il ricercatore prova a rispondere, io, ad aggiungere alcuni elementi, se lui deve appunto poi depositare il documento nel repository trusted, quindi in repository, diciamo, costitabili, che risponde a determinati criteri, anche appunto, dell'attività in realtà, deve essere certo di poterlo fare mantenendo i diritti di pubblicazione. Quindi io deposito nella misura in cui non vado a violare, per esempio, un contratto che ho stimato con il mio auditore. Devo essere molto attento a, o concordare prima, diciamo, il rilascio dei diritti che devono rimanere in capo a me, autore, in maniera tale che io possa anche poi ripubblicare, richiare questi documenti. Certo, non posso farlo in violazione di un contratto in base al quale io ho ceduto tutti i miei diritti all'editore. Quindi per questo è anche importante, si parla appunto anche proprio di strategia di mantenimento dei diritti. E' in base a questa strategia che io posso poi, per comunicare a un mio auditore, che io ho ora, in virtù del mantenimento di alcuni diritti, posso anche ripubblicare il documento che ho provato. Quindi mi spero di aver aggiunto alcuni elementi chiarificatori, se vuole capire un certo. C'è un'altra domanda che leggo. Qualora il mio progetto di ricerca fosse confinanziato da un'azienda privata, come dovrei trattare i dati? Sì, allora, diciamo che bisognerebbe vedere se l'ente finanziatore privato è l'unico, o se per caso rientro in un quadro dove è comunque un progetto magari europeo che mi richiede l'accesso aperto. Ma se anche fossi una ricercatrice, un ricercatore così virtuoso da voler ad ogni posto essere attivo nella scienza aperta, il mio consiglio sarebbe quello di utilizzare il repository istituzionale dei dati, innanzitutto per avere la garanzia di non perderli, proprio perché come Arca anche il nostro nuovo repository sarà un trusted repository, quindi avrà quelle specifiche tecniche che mi assicurano la preservazione del tempo del dato digitale, e quindi la non corruttibilità. In ogni caso dovrò assicurarmi e contrattare con l'azienda fino a quando questi dati che ho raccolto dovranno rimanere chiusi. In ogni caso l'infrastruttura del repository istituzionale mi darà la possibilità di creare una community dove magari i dati potranno essere condivisi con altri membri del team di ricerca o potrò applicare magari un embargo per cui i dati potranno essere liberati alla fine del progetto, della realizzazione del prodotto commerciale. e quindi assolutamente l'archiviazione sarà sicuramente molto flessibile dal punto di vista della visibilità e dell'accessibilità dei dati. Magari potrò rendere i dati visibili ma non scaricabili, non riutilizzabili. Anche per un periodo di tempo potrebbe essere, no? Esatto, quindi ci sarà assoluta elasticità nell'affrontare questi temi. L'importante, come si diceva, è che chi produce i dati, chi produce l'articolo, abbia la consapevolezza di cosa vuole, può, permette... Quali sono le opportunità della scienza aperta? Non solo vista come un dovere devo, come dicevamo all'inizio, ma come delle opportunità che possono amplificare la propria produzione a favore e la conoscenza del proprio lavoro, ma anche a beneficio della comunità. Questo è un aspetto centrale. Io non vedo altre domande, no, vero, corretto, bene. Quindi io chiuderei appunto con questo certo, dicevamo, no? Dieci anni fa, mi diceva, era nato quel primo momento a lei da lei che ha portato in Ferrara, no? Ed è proprio quest'anno, nel 2024, che negli scorsi mesi è stata lanciata la Barcelona Decoration, che rafforza ancora di più il concetto delle informazioni aperte sulla ricerca, sui dati e sulle infrastrutture, come a dimostrare che insomma il mondo della scienza aperta è un mondo costantemente in evoluzione. In questo webinar noi abbiamo cercato di delineare quelli che erano appunto gli aspetti più resistenti, ma anche le opportunità e gli avanzamenti che sono stati fatti in questi anni. Quindi salutiamo tutti e ringraziamo coloro che hanno partecipato.